Tempo di elezioni in Calabria, elezioni regionali del 26 gennaio 2020. Mi raccomando il 26, non ne dimenticate nessuno di questi elementi qua, voglio solamente farci una scommessa, ma io non lo so, forse io prima voto la mia coscienza, poi vediamo per il resto, però voglio dare una scommessa, se ci sarà un personaggio simile, chi è che sia e sarà in grado di accogliere una famiglia e ascoltarla in maniera opportuna e giustificata, sarò io il primo a screditarmi da solo, chiaro? Non sono altro che dei semplici soggetti che fanno a gara chi deve andare ad appoggiare il deretano sullo scragno, bisogna vedere il dopo, il dopo bisogna vedere! Qual è il tuo dubbio? Guarda, il mio dubbio, io parlo per esperienza, ma adesso per esperienza non parlo nemmeno più, chi vuole intendere intendere!